ok raga ci siamo ci siamo devo guardare che video è solamente ci siamo allora il tuo canale e guardiamo che video come si chiama il video di questa live perché non so ma non c'è non c'è boh non lo so eccola qua live vabbè devo modificare il nome ma ora lo modifico aspettate all'altro modifica modifica live sabato usate ragazzi ok video aggiornato live sabato allora raga oggi giochiamo sempre a fortnite intanto aspettate ora regaleremo fendi onde quindi aspettate che prendo l'immagine sto facendo tuttora perché non mi sono preparato per questa live allora lo scarichiamo no questo no questo scarichi l'immagine ok allora mettiamola nella copertina scusate cioè sto facendo tuttora ma tome scusate tanto ma ma no dove bello chi me l'ha detto allora raga andiamo su fortnite aspettate raga aspettate ok ecco qua raga ecco qua raga 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 siamo su fortnite allora facciamo che cosa facciamo allora facciamo creativo e ora vedremo che cosa faremo allora fiale crea giochi quindi stiamo facendo al parco giochi allora io il telefono in carica è scarichissimo cioè mi dovrebbero arrivare i box da un momento all'altro per regalarmi le cose vuoi io nel frattempo mi guardo su side sport tutti i pazzi bello slime 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 i te pazzi bello slime tutti i pazzi bello slime tutti i pazzi bello slime i pazzi bello slime i pazzi bello slime papà però lo stesso la bosca non lo hai non lo hai fai quella cosa la ma dove sono finito ok io vado nella mia isola torre racco fendionde mi sa che è questa no andiamo in un'altra isola sempre mia allora isola di natal di dire boh non lo so raga non lo so si mi sa creo nuova allora io la vorrei fare su boh non lo so isola tropicale isola con le spalle del fiume no facciamo l'isola tropicale no facciamo no aspettate vi vedo un'idea facciamo l'isola di allequillo va bene? allora facciamo l'isola di allequillo la devo fare io fermo la facciamo su un vulcano no 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 allora no la decido io l'isola dove deve essere ancora è il preore che vi do gli le covette allora dove deve essere è che sei animale non mi vuoi fare per niente dove deve essere non mi vuoi fare per niente ci vuole avere qualche cosa ti vuole vedere ti vuole vedere che cosa ti vuole vedere quale isola? vai cambiamo posto con l'incivo a quale isola allora non toccare niente perché ho ricollegato la live del venerdì e sto continuando la live del venerdì quindi cambiamo la cuffia no questa isola no tu questa no tu no tu non giochi ma le mie cuffie sono queste una la devo sentire io le cuffie allora raga allora raga l'isola marco marco come si fa a vedere l'isola vieni qua marco allora raga marco come si fa a vedere a vedere l'isola grande l'isola grande voglio vedere l'isola no la devi scegliere da qua era meglio giocare con il joystick come mi prendo non lo so io non saprei comunque ricordatevelo giorno 20 live sul mio canale aspettando la season 2 di fortnite questa no no non ho messo come si chiama aspetta si si puoi mettere ok te l'ha messa te l'ha messa metti il nome caricamento in corso aspetta aspetta togliamo le cuffie o le lasciamo se non funzionerà siamo entrati però devo entrare cacchio io vado a prendere i bbux ciao ci vediamo dopo io vado a prendere i bbux allora raga ora facciamo ragazzi è di certo Ma chiedi, vuoi vedere un film horror? Che? Cosa si è spento? A quant'era? Cosa si è spento?